ritorna al parco scarpellini di pesaro la fiera regionale del riuso dal 30 maggio al 2 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 22 musica e colori per far da cornice al più grande mercato del riuso stand gastronomici spettacoli e tanto altro fiera regionale del riuso dal 30 maggio al 2 giugno al parco scarpellini di pesaro